Grazie Presidente, sarò brevissima soltanto per sottolineare veramente come a volte in commissione urbanistica ci arrivano dei libere come questa che ci accingiamo a votare in cui leggendo le premesse spesso da soli ci meravigliamo del fatto che l'amministrazione per arrivare a Dama su procedimenti di questo tipo abbia impiegato non anni ma addirittura decenni, cosa che comporta e ha comportato per l'amministrazione ovviamente anche un notevole aumento dei costi, quindi il mio intervento è finalizzato soltanto a rimarcare questo e a dire che ci auguriamo appunto che l'amministrazione diventi sempre più un'amministrazione efficiente e che quindi nei prossimi anni vedremo sempre meno dei libere di questo tipo, quantomeno le vedremo dopo il tempo necessario per prepararle e votare, istruirle insomma senza aspettare decenni. Grazie.